ciao buonasera oggi volevo darvi alcune informazioni sui nuovi top di gamma che dovranno uscire fra poco p50 p50 pro e p50 pro più prima di iniziare il video vi ricordo di seguire questa persona su instagram che ha vinto il soldaggio e vi ricordo anche di seguire il mio profilo di instagram che vi rimango giù in descrizione porterò nuovi tipo di sondaggi e sicuramente ci saranno nuovi tipo di vincitori su youtube ora iniziamo il video allora ragazzi p50 uscirà forse ad aprile non si sa ancora lato ufficiale infatti sta avendo molte difficoltà su questo punto di vista che sta avendo anche difficoltà col suo sistema operativo infatti non ci sarà più google forse dall'anno prossimo o sicuramente anche quest'anno ci sarà un nuovo tipo di software che molti si lamentano che non riescono a scaricare più applicazioni molti non riescono a fare le cose allora un way sta pensando al suo sistema operativo però rispetto a google sicuramente andando in questi anni e poi un way sarà molto difficile questa cosa allora un way p50 avrà uno schermo da 6.3 pollici p40 dell'anno scorso che era 6.1 pollici p50 pro avrà uno schema da 6.7 pollici tutte e due forse avranno lo schermo full hd avremo la memoria interna 128 giga più espandibilità di memoria dire da 8 giga di memoria interna per gestire molto bene tutti i file tutte le foto e tutto quanto molto velocemente anche 120 hertz 10 bit avrà memoria dd5 cambierà la fotocamera di 50 pro che avrà una grande angolare a 64 megapixel forse abbiamo una ricarica da 66 watt più una ricarica inversa da 50 watt è una cosa molto buona per un way moltissimo anche dal punto di vista della velocità fatta per un processore clean 9 mila e sarà molto veloce in tutti i punti di vista poi forse avrà i moi 11 quest'anno con il nuovo soft come ho detto prima fine molto compatto rispetto a p50 pro che forse avrà uno schermo più curvo il p50 normale dovrebbe avere uno schermo meno curvo ci saranno nuovi tipo di modelli si chiamano matt pad 2 e un way i passano di accessori vicino ai nuovi uo way speriamo che usciranno presto uo way sta facendo ottimi passi in avanti dal punto di vista anche della fotocamera ve lo consiglio di acquistare un web p50 quando ci va solamente per la fotocamera perché uo way fa dei telefonini top di gamma con che potete fare delle foto eccezionali poi avrà la certificazione ip68 però non si sa se avranno anche l'interno della confezione se caricatore sia le cuffie ancora questa cosa non si sa speriamo che sarà confermata e che non seguirà altri brand l'unica cosa che odio di un way che non mettono ancora il nuovo sistema operativo che ci stanno mettendo un po di anni speriamo che questa cosa quest'anno l'anno prossimo cambierà allora ragazzi in conclusione un way p50 dovrebbe uscire ad aprile non si sa se veramente uscirà vi farò sapere informazioni seguiti anche su instagram che ci saranno altre informazioni poi là e ci saranno sicuramente chi ama la fotografia p50 ve lo consiglierò assolutamente c'è anche informazioni su one plus 9 che uscirà a breve 23 marzo e la sicuramente farò un video di presentazione di nuovi top di gamma di casa un plus video sicuramente le informazioni ufficiali dei nuovi top di gamma di casa un plus iphone sappiamo che invece usciranno a settembre e ci saranno altri dispositivi che voglio farvi vedere quando usciranno e con questo è tutto ciao a più